Paolo Pane, Paolo Pane, una persona che è ritenuto veramente significativa anche in questa vittoria. Paolo, come ti senti? Grande soddisfazione, grande responsabilità, perché adesso è il momento di distendere i toni, è il momento di impegnarsi e il lavoro inizia oggi. Fino a oggi c'è stata una campagna che in alcuni momenti ha avuto anche dei toni, forse un po' sopra le righe, adesso la responsabilità... A distanza puoi anche togliere la mascherina un attimino, così li fai vedere, andiamo a distanza. Allora Paolo, questa è la grande emozione, quindi sarà la prima cosa da fare, affrontare i problemi della città e tutto quello... Ripeto, il lavoro inizia adesso, fino ad ora c'è stata questa campagna dei toni anche un po' troppo accesi, adesso il compito del nuovo sindaco è pacificare la città, iniziare subito a lavorare in maniera serena, in maniera distesa e nell'interesse di Sorrento. Grazie e buon lavoro.